Salone dello studente a Pescara il 19 e 20 ottobre al Marina di Pescara. Qual è il senso di questa iniziativa e l'importanza? Parlare con i ragazzi, dare ai ragazzi indicazioni per il loro futuro di formazione e per il loro futuro occupazionale. Partendo da un dato, noi come Italia abbiamo un gap enorme in termini di formazione. Pensi che il numero di studenti universitari oggi è la metà di quando mi sono iscritto all'università io. Questo è un dato su cui riflettere. Quindi abbiamo un problema di formazione e abbiamo poi un enorme problema di occupazione. Ecco perché noi questo salone lo facciamo insieme all'Union Camera, alla Camera di Commercio, lo facciamo insieme all'Università, all'Associazione Imprenditoriale, perché io credo che solo mettendo insieme tutte queste forze si può dare ai ragazzi, non dico una prospettiva, ma l'indicazione di una prospettiva che è fondamentale. Dare sbocchi lavorativi agli studenti dopo la laurea? Certamente. L'Università vuole puntare soprattutto sulla cultura e quindi sulla cultura dei giovani. Noi dobbiamo formare studenti, giovani che guardino anche all'ingresso del mondo del lavoro e quindi l'Università è assolutamente interessata a questo perché il mondo del lavoro si popola di giovani che non possono andare come numeri, devono essere soggetti, devono essere un po' i nuovi eroi perché è questa la prospettiva, un mondo nuovo che aspetta giovani, nuovi che entrino con nuove consapevolezze. La sfida è questa, l'Università è pronta a raccoglierla. Ci fa molto piacere che Campus Oriente abbia scelto la nostra città tra le 13 tappe italiane in cui incontreranno appunto 250.000 studenti e daranno quelle che sono un po' le indicazioni, un nuovo modo di concepire l'alternanza scuola-lavoro, il futuro. Quello che manca probabilmente nel nostro paese è questo cordone umbilicale tra la scuola, la scuola e il mondo del lavoro. Il compito del sistema camerale italiano è proprio questo, mettere a regime, come negli altri paesi dove sono stati più bravi di noi, diciamocelo francamente, a mettere in collegamento, come in questo caso, una fascia d'età 16-18 anni con una scelta universitaria che indirizzi, in collegamento con le aziende, il futuro dei nostri giovani.